Salve cari amiche virtuali, ho acquistato questi nuovi rossetti dalle tonalità calde e primaverili Della linea cosmetica farmaceutica Lovren, un'azienda italiana che offre solo prodotti di alta qualità I pigmenti contengono ossidi di ferro, a basso contenuto di metalli pesanti e 100% ingredienti naturali Il primo rossetto è R2 Rosa Notte Il secondo rossetto R5 Magnolia Naturalmente ai rossetti ho abbinato le matite labbra Lp2 Rosa Notte e Lp5 Magnolia Con questi rossetti della linea Lovren Hydra Creamy le vostre labbra saranno ultramorbide, luminose e idratate La sua formula è a base di acido ialuronico, dona volume per un effetto anti-age a proprietà riparatrici e rigeneranti dei tessuti E' ricco di burro di karité e di vitamina E, ricca di proprietà ad azione antiossidante, proteggendo le labbra dagli agenti esterni Naturalmente le matite sono ottime per disegnare il vostro contorno labbra senza lasciare sbavature, eccellenti anche per coprire le rughe periorali Tutto conoscugh台灣 L'Ovren, qualità e bellezza. Grazie.